ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo assaggiamo in cui andremo ad assaggiare come vedete dal titolo queste chips di topinambur queste qui in particolare le ho comprate in quello che è praticamente il supermercato più bello del mondo se volete sapere volete dargli un'occhiata andate a recuperare il video su venezia vi dico anche che costano un euro e 49 che sembra tanto essendo solo 15 grammi però comunque sia non è perché lo comprate a venezia perché ci sono anche nel supermercato dove vado di solito e costano assolutamente uguale quindi quindi i prezzi sono comunque in linea con quelli che sono gli altri supermercati vi faccio vedere un pochino la confezione come vi dicevo per l'appunto sono 15 grammi 100% topinambur l'immagine di quello che è il topinambur la trovate sulla confezione tanto per farvi un'idea vi faccio ovviamente vedere anche le informazioni nutrizionali per chi fosse interessato andiamo quindi ad aprire e ad assaggiare poi sono proprio mini questa è una delle più grandi fate conto ma alla fine il topinambur non è assolutamente enorme vi faccio vedere un pochino più da vicino anche se non metterà mai a fuoco e andiamo ad assaggiare non sono male non avendo il sale sono comunque abbastanza saporite sanno appunto di topinambur per chi sa di che cosa sa il topinambur è una radice che comunque qui in friuli si usa quindi sapevo già cosa aspettarmi non avendo il sale volevo comunque provarle non sono esattamente economiche però ve le consiglio se volete farvi uno snack veloce e appunto sano se l'avete provate anche voi fatemelo sapere con un commento qui sotto fatemi anche sapere se mi sono piaciute se il video l'avete trovato interessante lasciate un bel like se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi al canale magari anche attivando la campanella in modo tale da ricevere una notifica ogni volta che carico un nuovo video qui sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure noi ci vediamo al prossimo video have a nice life